Buonasera amici della Barcolana, amici di tutti i media che trasmetteranno questo talk show, siamo a Porto Piccolo, un gioiello nel Golfo di Trieste e come vedete si svolge in questi giorni questa sorta di warm up di Barcolana 54, Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo la prima volta che una flotta di Maxi, sono ben 15, si ritrova nel Golfo di Trieste, pochi giorni prima, una sorta di marcia di avvicinamento proprio alla Barcolana e i Maxi sapete che sono i protagonisti della Barcolana, ce ne sono alcuni, faremo ogni giorno un talk show post regata oggi il vento ha tradito il Golfo di Trieste, non c'è stata regata o meglio sono andati in acqua, hanno fatto un paio di ore di regata che poi è stata annullata per mancanza di vento, ogni giorno incontreremo dei protagonisti vi presento quelli di oggi, dalla vostra destra Roberto Cabrini che è l'armatore, uno degli armatori di Kind of Magic Kind of Magic, poi parleremo anche delle barche, ovviamente non solo di loro poi proseguiamo con Dean Bassi, lo conoscete, il direttore sportivo della società velica di Barcolan Grignano quindi il club organizzatore della Coppa d'autunno, la Barcolana e proseguiamo con David Mizrai che invece è di Night Shadow, un botin 52 i Maxi vanno da 50 piedi fino ai 100 piedi, lo scopriremo nel corso di questi talk show invece abbiamo Marco Augelli che è lo skipper, il velaio, il timoniere di una barca che è l'osservata speciale attenzione, si chiama Echita, batte il guidone proprio della società velica di Barcolan Grignano ed è la barca più nuova in circolazione forse sui mari italiani, varata da pochissimo, un Maxi Dolphin 62 non a caso a fianco di Marco abbiamo Giovanni Pizzati che è il direttore tecnico proprio del cantiere Maxi Dolphin quindi andremo anche a vedere alcune cose interessanti su come nasce un Maxi nuovo, un Maxi Dolphin 62 piedi poi continuando abbiamo Mitia Simcic che di Barcolan ne ha fatte tantissime, viene dalla Slovenia ne ha anche vinte due nella sua classe, ce lo racconterà adesso lui è su Clean Sport One, Clean Sport One Step Impianti che è un VO60 quindi barca che ha fatto la Woodbird, anzi la Volvo Ocean Race e infine concludiamo in bellezza con Andrea Visintini che è il navigatore niente un po' di meno che di Deep Blue che è il Maxi osservato speciale considerato uno dei grandi sfidanti di Arca SGR di Furio Benussi per la vittoria proprio della Barcolana allora partiamo da lui, dalla New Entry, questo Maxi di 85 piedi un altro progetto di Botin & Partners, quindi sono due Botin abbiamo detto Andrea, come siete arrivati, come arriva questo Maxi di questa miliardaria filantropa americana Wendy Schmidt che comunque è un B2A del mondo Maxi come soprattutto dagli Stati Uniti e da Wendy è venuta la voglia di essere, di portare Deep Blue a Trieste e alla Barcolana? La Barcolana è un evento che è conosciuto nel mondo ed è una cosa che tutti i velisti almeno una volta nella vita, nella loro carriera devono fare e quindi un po' quest'anno il calendario permetteva alla barca di venire fino a qui, a Trieste e devo dire un po' il tramite, sono stato io alla fine che ho parlato bravo triestino bravo triestino, ho detto dovete venire a Trieste a vedere questa cosa che non è raccontabile a parole bisogna farla davvero mi piace, non è raccontabile due parole invece ce le racconti tu a proposito della barca questo Deep Blue è un Maxi, è la seconda stagione mi dicevi che la barca è ancora in fase di messa a punto costruita a Valencia da King Marine, lo stesso cantiere dove è uscito da poco Flying Nick, il Foiler Offshore a che punto è la preparazione di Deep Blue? 85 piedi, quindi siamo 15 piedi sotto al 100 piedi Arca quindi il defender un po' e quanto sentite di poter davvero contendere la barcolana alle barche più grandi? dipende molto dalle condizioni, sono barche sicuramente diverse il 100 piedi Arca è sicuramente più veloce in certe condizioni di noi noi abbiamo un progetto più recente e sono due concezioni di barche un po' diverse quindi dipenderà molto dalle condizioni meteomarine sicuramente faccio un'anticipazione, i vostri meteomen cosa dicono a proposito del meteo? diciamo è un po' presto, speriamo che ci sia un po' di vento perché fino a questo momento sembra abbastanza leggero un po' di vento, quindi il vento leggero non vi soddisfa più di tanto? sempre meglio un po' più d'aria? con le barca a vela sicuramente c'è più divertimento con tanto vento Mitia dalla Slovenia, hai sentito che ha detto Andrea Visintini che invece è triestino la barcolana non si può raccontare, bisogna viverla da dentro, quante ne hai fatte tu? io penso che un 37 barcolane le ho fatte 37 barcolane, fate l'applauso da casa perché è quello che ce l'ha più di tutti qua forse non lo so, vediamo mancavo una volta quando il figlio mi si sposò un giorno prima certo, pure sto figlio si va a sposare proprio il giorno prima della barcolana ed è vero che si deve vivere e non si riesce a raccontarla se tu la dovessi raccontare adesso come la descriveresti? non si deve mancare, non che vivela non si deve mancare davvero un evento speciale quando si vive tante, con poco vento, con tanto vento è una cosa stupenda insomma la vostra barca, questo VO60 tu in banchina così parlando della barca dicevi questo è un camion che non è detto che sia un commento negativo cioè una barca chiaramente che ha fatto il giro del mondo ha passato capo Horn, capo di buona speranza cioè i 40 ruggenti, i 50 urlanti è logico che deve avere una robustezza di fondo che magari un racer puro non ha però come arrivate voi a questa regata e come sono poi anche le impressioni da questo confronto con gli altri maxi della prima edizione di Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo si davvero un camion è un VO60 che ha fatto la Volvo Ocean Race nel 2001 con Mehamersport 2 equipaggiata da squadra femminile noi l'abbiamo preso 5-6 anni siccome si parla del riciclaggio anche noi abbiamo fatto con questa barca tanti sacrifici con gli amici nostri che facciamo la vela insieme l'abbiamo un po' alleggerita non poi tanto abbiamo fatto un po' delle modifiche abbiamo fatto già 5 barcolane con queste siamo sempre là 10 posti al decimo sia con vento leggero sia con vento forte oggi peccato perché c'era poco vento non si fineva ma comunque abbiamo provato una nuova vela una nuova vela che non andavamo male una sorpresa quindi da Clean Sport questa nuova vela dice un po' cos'è questa sorpresa che vela è? un Code Zero? un Code One? cos'è? è un J Zero un J Zero da Clean Sport occhio vi teniamo d'occhio vediamo domani anche in regata questa che dicevi tu bene era la filosofia di prendere barche usate barche anche molto vecchie rimetterle in sesto è un po' quello che ha fatto Fast and Furio Team proprio con Arca SGR però c'è anche chi le barche invece le fa ex novo come il cantiere Maxi Dolphin ti faccio parlare subito dopo ma prima sento lo skipper skipper, velaio, tutti questi incarichi che ha Marco Augelli allora Echita barca nuova 62 piedi anche molto particolare da vedere avete una prua che sembra un catamarano molto riversa molto in avanti una poppa al contrario invece a specchio che barca è? Alejandro Botino un argentino che l'ha progettata descrivici un po' la barca e anche il team e l'equipaggio allora il progetto è nato un anno e mezzo fa con un mio armatore il Bruno Marin che è il timoniere della barca per precisare non sono anche il timoniere anche il timoniere in collaborazione con il cantiere Maxi Dolphin che proponeva questo nuovo disegno da parte di Bottino ci è piaciuto molto sin dall'inizio perché dava comunque l'impressione di essere una barca dalle buone prestazioni oltre alla possibilità di andare anche in crociera e in effetti adesso la barca è stata varata due mesi fa soltanto e stiamo provando per la prima volta sui campi di regata e queste prove ci danno conferma che alla fine la scelta è stata sicuramente buona quindi le prime impressioni sono positive molto larga molto elegante questo colore un po' beige che si nota diciamo così tu direttore tecnico del cantiere Maxi Dolphin che sta sul lago di Garda e che costruisce grandi maxi fino a che qual è la dimensione massima che avete fatto? la più grande costruita in cantiere è 36 metri il viriella quindi più di 100 piedi 118 118 piedi il famoso viriella allora descrivici invece un po' da direttore tecnico il processo di nascita di una barca come Echita varata poche settimane fa e insomma anche le sensazioni di varare una barca nuova cioè vederla nascere dal disegno e portarla poi in acqua sì ecco in maxi è proprio quello che facciamo da un foglio bianco si arriva a consegnare l'imbarcazione all'armatore e poi a vederla navigare la senti come una creatura tua e se funziona bene è una cosa molto molto soddisfacente ecco e noi maxi facciamo tutto in casa abbiamo forni facciamo stampi e quant'altro cerchiamo di tenere la qualità agli standard più alti possibile e una personalizzazione che arrivi ai massimi livelli e con Echita siamo soddisfatti del risultato quando nasce un racer adesso non parliamo addirittura degli AC40 adesso di Coppa America i piccoli Coppa America ma in generale barche nuove si fanno i test strutturali si va in acqua per vedere se tutto funziona avviene anche con un maxi cruising racing come Echita? sì diciamo che c'è tutta una serie di prove a mare di sea trial che vengono effettuati dopo il VAR o comunque alla consegna dell'imbarcazione non si arriva ai livelli di un racer puro ricordiamo che è comunque una barca da crociera la crociera veloce è quella che ci piace definire il super fast cruiser è una barca tutta in carbonio con lifting kill con albero in alto modulo insomma ha delle belle caratteristiche per correre però ha tutti i comfort per il caso salatore reacondizionata quello che serve per navigare nel pieno comfort ultima cosa Marco allora le impressioni che tu hai da contendente non solo a questa barcolana maxi trofeo porto piccolo con altri 14 concorrenti ma proprio per la barcolana no? questa barca nuova che è molto attesa può inserirsi in qualche modo può dare una zampata che classifica ti ti così eh saresti contento di avere domenica sera? ma sicuramente rientrare nei primi 10 è un ottimo risultato considerato che la barcolana da molte riserva molte variabili no? per cui non è mai una regata scontata ma nel caso facessimo una buona gestione della partenza soprattutto secondo me sì nei primi 10-15 ci potrebbe stare come ti sei già un po' sbragato da 10 poi ti dice ah 10-15 bisogna non bisogna mollare bisogna tenere hai detto 10 teniamo 10 insomma dai poi ne riparleremo comunque grazie Marco vi guardiamo comunque perché la barca è davvero bella da un botino a un botin perché Night Shadow è un botin 52 David Mizerai vengono dalla Svizzera abbiamo avuto uno sloveno uno svizzero si parla tanto di internazionalizzazione della barcolana queste ne sono anche le prove allora com'è invece Night Shadow com'è un po' organizzata quanti anni ha la barca che barca è com'è l'equipaggio quali sono le aspettative a questa barcolana maxi e alla barcolana 54 sì la Night Shadow è una barca che è è stata costruita come la Cacia Galicia spagnola che ha vinto la Coppa del Rey parecchie volte 20 anni fa e adesso l'abbiamo preso noi già un anno l'abbiamo portato da Marseille fino qui fino a Trieste abbiamo fatto la barcolana scorsa abbiamo abbiamo vinto un piccolo trofeo e da quel da quel giorno siamo già vinti abbiamo già vinti tre trofei con una squadra molto giovane con poca esperienza sulla barca è una squadra molto internazionale abbiamo dei ragazzi della Sudafrica della Svizzera tedeschi ragazzi italiani in tutta la squadra anche dell'Inghilterra quanti siete a bordo? noi siamo adesso nove a bordo forse possiamo arrivare fino a 12 o 14 che arriveremo alla barcolana stessa saremo 13 o 14 quindi diciamo un vecchio tra virgolette IMS perché all'epoca non c'era l'Orca ma c'era l'IMS la barca anche del re Juan Carlos praticamente era una gemella di questa qua il Bribon se non sbaglio voi l'avete riadattata e tu mi stai dicendo che avete già fatto la barcolana l'anno scorso vincendo un piccolo trofeo ci puoi spiegare che vuol dire un piccolo trofeo? è stato il trofeo offshore barcolana perché il trofeo va dato a quelli che vengono del porto più lontano noi siamo venuti da Marseille e allora abbiamo vinto questo piccolo trofeo però abbiamo fatto una buona figura abbiamo diventato 30 32 nella categoria 5 allora non è stato male per quelle condizioni di vento con una barca che era nuova per molti che erano a bordo 49 di l'altro anno vorrei ricordare pure di più tu se vieni dalla Svizzera hai detto equipaggio giovane che si sta facendo sembra un po' la filosofia di Alinghi allora visto che sei svizzero visto che Alinghi sta cominciando a volare a Barcellona con la C75 dici qualcosa che si sa in Svizzera e che noi non sappiamo su Alinghi ma l'Alinghi si è messo insieme adesso con la Red Bull c'è un'aspettativa molto grande anche per perché l'Alinghi non è che è andato via dell'America's Cup la Alinghi rimane anche indietro alla GC32 e a diversi altri competitivi internazionali in catamarano per quello io penso che l'Alinghi ha un potenziale molto grande e i ragazzi che sono lì hanno una grande esperienza molto forti e ovviamente ha tutta la nazione svizzera indietro questa cosa che la Barcolana non si può mancare la dici poi anche a Bertarelli nel senso che ci piacerebbe vedere un team di Alinghi ovviamente non Foiling e non catamarani che sono le due cose con cui Alinghi regata però trovare una barca anche loro e venire a fare una Barcolana sì questo potrebbe essere una buona idea magari organizziamo tutti i team di Coppa America passo davanti perché vado dall'altra parte a concludere questo giro ti lascio per ultimo Dean e faccio invece Roberto Cabrini che è l'armatore abbiamo detto di Kind of Magic abbiamo detto a metà strada tra Magic e Kind of Blue questo è un Frer 56 un prototipo che barca è molto bella e poi soprattutto la sorpresa che avrete a bordo nella Barcolana un equipaggio di una parte dell'equipaggio fatto di ragazze di un certo peso diciamo così importanti sì Kind of Magic è un Frer del 97 un bellissimo progetto che ha affascinato tre armatori che siamo noi io e i miei altri due soci e che abbiamo cercato di riportare allo splendore di un tempo pensiamo di riuscirci in qualche modo e la barca adesso è bella si presenta bene piace a molti perché è un bel progetto al di là di questo la barca è stata per la Barcolana come dire sposata da Coppa Italia per un progetto di parità territoriale che vedrà a bordo un equipaggio tutto femminile con anche delle campionesse olimpiche e che si sono messe anche in evidenza nella Volvo Ocean Race come Francesca Club c'è stato per non fare nomi altri nomi altri nomi c'è la Rossi e ci sono altre due veliste importantissime di cui non voglio scopriremo piano piano di cui un'americana perché hai detto la barca adesso è molto bella perché di solito una barca nasce bella le barche sono tutte belle in generale avete fatto dei lavori avete fatto un refitting avete cambiato qualcosa hai detto una cosa veramente giusta la barca è sempre stata bella alla fine poi abbiamo cercato di renderle onore a questa bellezza a questo bellissimo progetto dandole quello di cui aveva bisogno e che magari qualche armatore fa non è riuscito a darle magari per disattenzione o perché non ha avuto la stessa nostra passione e non è stato folgorato come noi quindi questo è un colpo di cuore kind of magic perché inizialmente si chiamava magic non volevamo cambiarle il nome amanti della musica esiste un disco iconico che è kind of blue abbiamo fatto un mix la barca è blu è diventata bellissimo vi aspettiamo allora pure voi osservati speciali veniamo in barcolana poi faccio un altro giro finale Dean Bassi direttore sportivo della società belica di Barco Legrignano no no ma sto qui guarda in piedi tranquillo mi regge io ho fatto questo salto di latitudine dalle eolie 24 ore fa a Trieste però che meraviglia senti ma che soddisfazione ti dà essere il direttore sportivo di un circolo che riunisce non solo le 2000 barche della barcolana ma insomma tanti maxi così belli in una prima edizione della barcolana maxi trofeo porto piccolo la soddisfazione di solito arriva il lunedì dopo la barcolana quando tiri un attimo il sospiro di sollievo per adesso invece per quanto riguarda la barcolana maxi trofeo porto piccolo la scelta che tu hai fatto qua dei regattanti rappresenta esattamente quello che cercavamo che abbiamo immaginato come progetto e questa è la soddisfazione che abbiamo quindi barche dell'adriatico perché quando parlavamo qui assieme a porto piccolo l'anno scorso mi aveva detto ma quante barche ci sono nell'adriatico veramente grandi veramente brave che sono partite da Ravenna ad Ancona a Trieste dove tanti refitting sono fatti hai citato tu giustamente Arca precedentemente o barche nuove come il maxi Dolphin che è stato varato adesso anche se nell'immaginario di solito vediamo come dire questo tipo di imbarcazioni grandi un po' luxury più nel terreno abbiamo detto perché non facciamo una sfida portiamo mettiamoli assieme e vediamo esattamente quello che è accaduto qui quindi abbiamo quella che è la cultura nostra adriatica del nostro mare che viene sfidata da equipaggi statunitensi piuttosto che svizzeri Newport non è proprio sull'adriatico mi pare comunque no dico loro non vengono dall'adriatico Deep Blue meno male perché almeno hanno trovato i maxi dell'adriatico difatti questa è l'idea il mix che volevamo creare e la sfida che volevamo far conoscere quello che è il nostro golfo magari non nelle condizioni che abbiamo avuto oggi farlo conoscere e sfidare quello che sono le nostre competenze quello che hai visto oggi anche ieri nella regata nella practice race che cosa hai visto perché tu sei a bordo di Echita quindi ti sei anche messo un po' in gioco sei a bordo di questa barca nuova quali sono le tue impressioni sullo stato un po' degli equipaggi ovviamente ce ne sono tre osservati speciali insomma i tre maxi più grandi però insomma quali sono secondo te i punti che ti sono balzati un po' alla mente mentre ci telefonano sempre da fuori dopo qualcuno risponde beh guarda oggi pubblico capito che ci telefona da fuori per intervenire siamo in diretta hanno sentito tutto ci cercano guarda oggi avevamo gli chef a bordo ovvero questa sera nove chef faranno nove piatti e abbiamo voluto invitarli in questo che è Barcolana si chef a partecipare alla regata montando sulle barche mi hanno detto ma come tu sei organizzatore veleggi ho fatto un certo ma anche voi cucinate e assaggiate quello che fate per farlo meglio ed è un po' questo il gioco che stiamo facendo sono ospite su Echita mi fanno fare delle cose per fortuna mia non loro e quindi abbiamo assaggiato ieri con una giornata veramente bella c'erano dieci nodi un cielo terzo veramente carina quello che abbiamo assaggiato ieri cos'è? per la prima volta in Barcolana abbiamo avuto i compensi cioè abbiamo regatato in orca ed è anche una delle introduzioni delle novità che abbiamo in questa Barcolana 54 cosa significa i compensi? noi vogliamo parificare le barche cioè con delle formule matematiche con una specie di handicap e far sì che risalti ancora di più l'equipaggio quindi trascuriamo quella che è la lunghezza overall per andare a vedere come effettivamente l'equipaggio fa le sue scelte tattiche e le sue manovre ed è questo che è stato il primo assaggio di ieri di questa practice race di cui le classifiche sono importanti vieno a un certo punto era practice però abbiamo visto come il tempo reale viene completamente invertito e Kit ha avuto grandi soddisfazioni lo dico con un po' di orgoglio concedimelo non bisognerebbe vincere la practice race d'abitudine dice che non si può avete pure tagliato il traguardo e avete sfidato la scaramanzia mi piace questa cosa basta queste cose dei marinai queste so invece che alcune giornaliste oggi sono state fatte cambiare completamente che avevano del violo e del verde a bordo ma insomma in realtà la scaramanzia è parte integrante difatti hai visto nessuno si sbilancia sui risultati e noi non lo faremo sul metodo non chiedere niente poi le magliette il colore delle magliette di Barcolana quest'anno voglio dire no non è proprio uno smeraldo la mia signora ha chiaramente detto che si tratta di blu tiffany non è verde chiariamolo una volta per tutte e invece il colore di Echita com'è io ho detto beige ma insomma è un colore particolare sentiamola dal direttore tecnico del cantiere scusa ce l'abbiamo quando è uscito il pantone che avete scelto non c'è nessun pantone è un colore custom definito con l'armatore dopo parecchie prove si chiama Echita colore Echita ma tu diresti beige Echita marrone Echita come lo chiameresti Echita e basta Echita e basta ma che tolida che fa allora benissimo chiudiamola così faccio un ultimo giro con una domanda uguale per tutti ma prima voglio chiedere a Deep Blue perché non possiamo non chiedere a Deep Blue insomma cosa farà dopo la Barcolana perché cioè siete venuti attraversando l'Atlantico avete fatto le regate ai Caraibi quest'anno avete vinto anche l'Eineken regata ai Caraibi poi avete fatto Porto Cervo siete arrivati sesti alla Rolex Maxi Cup dopo la Barcolana che farà Deep Blue dopo la Barcolana la Deep Blue va a Valencia e abbiamo in programma delle modifiche alla barca che fanno parte dell'evoluzione del progetto pronti per la prossima stagione dopo soli due anni si torna in cantiere per piccole modifiche che fanno parte dell'evoluzione mi sembra giusto allora l'ultima domanda è quello che ha detto lui la novità di una regata per Maxi con i compensi quindi Ork praticamente in questa Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo come la prendete voi velisti? beh sistemi di rating noi normalmente siamo abituati appunto regattiamo con sistemi a rating quindi secondo me è la direzione giusta in cui andare sicuramente non per la Barcolana però quella non si tocca mi raccomando Mitia anche noi non è una cosa nuova noi guardiamo di fare come hanno detto che la squadra fa il suo migliore ogni virata deve essere perfetta e andare più veloce è quello è divertente dopo quindi contenti di essere a questa Barcolana Maxi Giovanni Pizzati direttore tecnico del cantiere però insomma magari avete pensato anche che Echita avrebbe regatato un giorno o l'altro anche in tempo compensato no? sì diciamo che a livello progettuale ormai si pensa comunque che un'imbarcazione simile prima o poi va su un campo di regata e quindi alcuni accorgimenti vengono messi in atto già a livello di progetto il velaio cioè la tua versione velaio diciamo così oltre che skipper della barca ha pensato qualcosa di particolare considerando di fare regate in tempo corretto o comunque insomma la barca è quella e buonanotte ma noi come veleria cerchiamo sempre di creare delle vele customizzate sul tipo di barca più che sul tipo di regate a cui va a partecipare secondo noi Echita necessitava di un certo tipo di vele per regate soprattutto offshore comunque si è pensato a un tipo di regata in tempo compensato quindi in considerazione del rating e quindi abbiamo sviluppato tutto un set di vele adeguato a questo programma Benissimo allora David Mizzai pure te stessa cosa l'importanza di poter fare una barcolana maxi in tempo compensato per tre giorni prima della barcolana Per noi ovviamente il tempo compensato è importantissimo perché noi siamo i ragazzi più piccoli noi abbiamo bisogno del tempo compensato però misurarsi tra queste barche così veloci così competitive in tempo compensato per noi è importantissimo è anche una grande esperienza I ragazzi più piccoli ha detto David però Roberto Cabrini chiudiamo con voi due tu invece anche il Fler 56 abbastanza piccolino in una flotta di maxi ma io credo che questo sia un forte incentivo alla partecipazione delle barche più piccole ma anche meno performanti credo inoltre che tra l'organizzazione di Porto Piccolo che ho riscontrato sia all'altezza e la forte spinta che sta dando Barcolana all'evento siano una cosa buona che porterà dalle 15 barche che abbiamo adesso a una forte sviluppo del numero e della manifestazione io sono convinto di questo Mi hai dato l'assist per la conclusione di Dejan Bassi il direttore sportivo a quanti maxi vogliamo arrivare in futuro per la Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo? Beh questo dipenderà da loro che saranno i nostri ambasciatori se si divertono quest'anno se gli piacerà quello che abbiamo fatto sia in mare i prossimi giorni capisco ma anche a terra perché questa regata a terra dà veramente tanto di divertimento vuole essere un po' questa è un po' l'idea che abbiamo avuto quindi dipende da loro e come prima scaramanticamente non ti dirò nessun numero non diciamo niente va bene non diciamo niente d'altra parte guardate sta arrivando un tramonto bellissimo perché oggi è stato un po' uggioso il tempo per quello che non c'era vento adesso siamo quasi al tramonto in questo catino di Porto Piccolo dove veramente ci piacerebbe restare anzi resteremo tutta la sera perché poi c'è la scena con gli chef hai detto bene che li viziate ci sono tante occasioni la sera rientro a terra dopo la regata state con noi perché questo talk show di Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo lo continua domani abbiamo già opzionato un paio di ospiti così non faccio nomi però Pellaschier, Klapcic gente di questo tipo e poi gran finale da Trieste giovedì dopo la regata conclusiva della Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo che è il percorso della Barcolana 54 quindi i loro 15 lo assaggeranno per primi lo testeranno per primi c'è una piccola grande novità che è la linea di partenza spostata da terra per avere più spazio giusto? Sì abbiamo fatto dei ragionamenti anche in base alle esperienze passate sono per fortuna veramente tanti e quindi dare più agio nel pre-partenza quando le barche concedimi si annusano tra di loro e dove i piccoli guardano i grandi hanno bisogno di molto spazio per navigare in sicurezza allora è stata fatta una scelta di sicurezza di spostare la partenza parallela così com'era di 200 metri più a largo sembrano pochi ma su due miglia in realtà l'acqua disponibile diventa in metri quadri veramente molto quando abbiamo visto le partenze non ci ricordiamo quegli incroci di alberi il percorso in realtà resta di lunghezza uguale perché abbiamo adattato le altre boe senza cambiare gli angoli e quindi alla fine anche da un punto di vista di percorrenza e di record non avremmo ripercussioni ma soltanto un incremento di sicurezza che è quello che cerchiamo sempre noi quando parliamo di vela potremo parlare anche due o tre ore quindi chiedo al regista di togliermi l'audio la parola la finiamo qui questa prima puntata del talk show Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo a domani state con noi ciao a tutti